Ma è possibile fare questi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 300 fette? Secondo me si, allora ragazzi guardate, bet 50, 3 ossa, iniziamo Io non sono come gli altri che stoppano i video per vincere sempre Vi faccio vedere che perdo pure, guardate Cash out, ok? Passiamo un attimo la puntata, altri 50 euro In questo caso abbiamo guadagnato 100 euro 100 euro, yes, ok Adesso abbassiamo l'osso, aumentiamo la puntata Possiamo rischiarcelo E andiamo a finire il giro Guardate, non metto stop, non metto niente, senza paura Perché se hai da vincere vincere, se hai da perdere, perdi Ok, cash out Adesso facciamo 5 ossa Mettiamo 100 euro E che ce la mandi buona 1, 2, 3 Cash out ho perso, però siccome primo ho vinto Io ci riprovo senza paura Dai ragazzi Boh, ma l'abbiamo fatto di più Totale vincita a 516 euro 1436 Link in bio per giocare al gioco Ciao ragazzi